Dare in continuità ai tre punti di Bergamo, ma giocando meglio. Sono i propositi del Teramo che domani alle 16.30 si appresta a scendere in campo per il secondo scontro salvezza consecutivo. In totale saranno quattro, con il Diavolo impegnato poi in trasferta a Gorgonzola contro la Gianerminio e a Renate. Al Bonolis arriverà la Virtus Verona, ultima in classifica, che ha la difesa peggiore del girone con 42 reti al passivo. Tuttavia la squadra del presidente allenatore Luigi Fresco nelle ultime partite ha recuperato diversi punti. Domenica scorsa ha battuto 2-1 la Feral Pisalò, ridisegnando di fatto la classifica in coda. Il Teramo con altri tre punti salirebbe a quota 37, a pochi passi dalla salvezza tranquilla con altre sette gare da disputare. Capitolo Formazioni. Maurizzi sembra orientato a riproporre il 3-5-2 rispetto al 3-5-1-1 di Bergamo, che comunque ha dato i suoi frutti sul piano del risultato, meno del gioco espresso con il Teramo che ha subito sin troppo l'avversario. De Grazia dovrebbe riprendersi il ruolo di mezzo alla sinistra, il sacrificato sarebbe Spinozzi, ballottaggio in mezzo al campo tra Spighi e Persia, decisioni dell'ultima ora da parte del mister. In avanti torna Sparacello a fare coppia con il bomber infantino, per lui sette reti in otto gare. In casa Verona mancherà il centrale difensivo Anzee, squalificato. Out anche Manarin che ha segnato la prima rete del 2-0 dell'andata.